La donna nelle sue innumerevoli sfaccettature, originatrice della vita che dalla terra nasce e con essa, diventando natura, si fonda. Donna sinonimo di fecondità ed abbondanza, faro e guida, madre e moglie, imprenditrice e operaia. La donna che, guardando all'altra faccia della medaglia, quella negativa, oggi è ancora vittima solo per il suo essere donna. Calpestata, umiliata, disprezzata fino a volerne cancellare per sempre l'esistenza, «Donna senza diritti e senza dover accampare pretese, la donna, così come accade da millenni, sottomessa e costretta al silenzio». Questa donna la racconta il maestro Barbaro Messina con una nuova mostra che verrà inaugurata domenica prossima alle ore 17 presso il Museo e Scuola d'Arte di Nicolosi. Circa 50 i pezzi in esposizione, con vasi per il ritorno alla ceramica, alle radici, anche se una ceramica lavorata in maniera innovativa, con pezzi in maiolica lustrata con lustri metallici, e poi i pezzi di pietralavica ceramicata, plasmati sotto le mani sapienti dell'artista, dove la pietra si fonde con l'argilla che diventa elemento decorativo. Impossibile raccontare la bellezza della mostra, di queste opere tutte da scoprire. La mostra è dunque un evento da non perdere.